Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video Cosa fare quando una persona visualizza e non risponde? Questo per acquisire dignità Ma comunque ricordatevi sempre che la maggior dignità la possiamo acquisire una volta che capiamo quali sono i nostri vuoti interiori cerchiamo di risanarli magari in terapia e soprattutto cerchiamo di capire perché ci leghiamo a persone che ci fanno del male e ce ne andiamo quindi fare giochetti alla lunga non porta a nulla soprattutto se la persona in questione non ci offre quello che noi cerchiamo In terapia ho capito una cosa che le persone non si cambiano, hanno il diritto di essere così come sono anche se ci sembrano cattive, stronze, egoiste e babababa non dobbiamo chiederci perché loro sono così dobbiamo capire cosa stiamo cercando ed eventualmente andarcene se ci propinano emozioni che non ci piacciono oppure situazioni che non ci piacciono oppure ci trattano male, che è ancora peggio Comunque, per acquisire un attimo di dignità io ti consiglio di utilizzare la stessa tecnica che utilizza quella persona magari scoprirai che ha paura dell'abbandono magari scoprirai che non è abituato ad essere trattato così perché va a incappare in persone che gli permettono di avere determinati atteggiamenti e quindi questa persona darà di matto ho provato anche io, non ci credevo, me l'ha consigliato il mio fratello ho provato solo una volta non perché io poi, insomma, non fossi interessata ma perché questi giochettini a me non piacciono voglio relazioni genuine con persone che vogliono realmente me vogliono stare con me, vogliono interagire con me parlo di amicizia, di amore, di frequentazioni, quello che volete e quindi il senso di fingere per provare a vedere chi la vince a me non piace non so a voi, però è importante sapere sempre dove stiamo andando comunque, le persone che a volte vi fanno un po' di ghosting quindi visualizzano, spariscono e aspettano che li riscrivete e bababà potete fare una cosa semplice che fanno anche loro quindi emularli come uno specchio visualizzano e risponde beh, la prossima volta prova a farlo tu dal nulla se non l'hai mai fatto vedrà una reazione perché tu acquisisci potenziale ma questo lo perde e questo non è abituato a persone che gli tolgono il potenziale quindi cosa devi fare? semplicemente dal nulla quando o meno se lo aspetta magari quando è la volta buona che ti manda col messaggio carino, con un emoji, magari con un bacio tu prendi, visualizzi e sparisci e ricordati che le persone che ci trattano male o che ci iniziano a dare per scontate tu rispondi solamente a domande o cose che hanno un senso o appuntamenti tipo ti va di prendere oggi un caffè con me? sì, no? ok, rispondi ma se ti dicono cose che non ti piacciono ti trattano male ti mandano risposte che sono un pochino superficiali o giusto di piacere tipo ok, haha, ciao, buonanotte però super scazzati ok, tu visualizza sparisci e com'è andata così? ho visualizzato alle 8 di sera alle 23 ho trovato un messaggio il giorno dopo è stato mandato alle 23 che era stato cancellato ma inviato e io ovviamente lì non ho detto cosa mi avevi scritto? no, silenzio tombale il giorno dopo alle 9 del mattino sempre mi è stato scritto che avremmo dovuto parlare quindi di vederci ha detto che mi avrebbe fatto sapere io ho visualizzato e sono sparita e alle 18 mi ha chiesto se ero arrabbiata e poi ci siamo visti per parlare però ripeto io poi non l'ho più fatta questa cosa perché i giochetti nelle relazioni genuine non ci devono essere se io so di cosa ho bisogno vado dove mi danno quello che ho bisogno è inutile che mi accanisco sperando di vincere contro una persona che mi tratta male perché questa persona ha il diritto di essere così com'è ha il diritto di non sapere cosa vuole ha il diritto fondamentalmente anche di essere cattivo perché in realtà una persona è così noi non siamo nessuno per cambiare gli altri possiamo solo lavorare su noi stessi e capire chi può darci amore chi può darci attenzione chi può darci quello che abbiamo bisogno e a chi possiamo dare ovviamente e con chi possiamo interagire e dare qualcosa e a chi no e quindi se questa persona è un no andiamocene non stiamo lì a farci trattare male e a chiederci ma se sparisco questo torna, questo non torna questa cosa ha funzionato ma perché ha funzionato? non perché è come dire una regola ma perché se tu cambi le carte in tavola di chi prova a manipolarti ovviamente questo non ci riesce non è mai successo e si chiede che succede ma poi non puoi pensare di andare avanti così per molto niente, questo è tutto ciao